il campo dei fiori trail prende il nome dal massiccio montoso a ridosso della città di varese appunto il campo dei fiori parliamo di prealpi varesine quindi un territorio vario di montagne che vanno a un livello massimo di 1200 metri partenza appunto dal lido di gavirate sulla lago di varese siamo a 250 metri gli atleti percorreranno i primi tre chilometri in salita salita corribile dopodiché avranno un 5 chilometri in piano molto veloci raggiungeranno l'abitato di velate da qua parte diciamo la prima salita vera che è il san francesco e subito dopo i gradoni della funicolare con pendenze importanti che arrivano anche al 50 per cento questa prima salita li permetterà di arrivere di raggiungere il campo dei fiori la prima vetta da lì c'è la divisione della prima gara la 25 si porta verso il forte di orino tutte le altre tre distanze scendono verso il centro storico del sacro monte per poi raggiungere in valle l'abitato della rasa dalla rasa affronteranno la seconda salita anche qua ci sono single track con pendenze abbastanza importanti parliamo della monte martica un 500 metri di dislivello fino qua anche se tratti impegnativi e tecnici gli anni passati i primi atleti primi 5 6 atleti erano ancora tutti insieme ovviamente man mano le distanze mentre sul gruppo di pancia sugli ultimi iniziano a essere già importanti sulla seconda salita una volta in cima alla martica c'è una seconda divisione di tracciato la 45 km scende verso l'abitato di brinzio mentre la 70 e la 90 km scenderanno verso la valganna passando dalle miniere scesi in valganna si affronta la terza salita o meglio un gruppo di salite che va appunto dal dal monarco passando per il minisfreddo il poncione e poi il piambello quindi una serie di salite un percorso un tratto di 13 14 chilometri con 1300 metri di dislivello questo tratto è la parte diciamo più selvaggia del percorso e anche la parte più dura qua iniziano veramente i primi anche a sgranarsi ricordo che nel 2018 appunto rinaldi che vinse poi l'edizione della 65 km qui riuscì a staccare insomma i primi tre si staccarono dal resto del gruppo si scende poi verso l'abitato di ganna per poi affrontare una salita corta ma impegnativa che quella del del mondonico il monte mondonico parliamo di due chilometri di salita molto impegnativi dal mondonico poi ci sarà la discesa verso l'abitato di bedero e bedero è un altro spartiacque delle due distanze quindi la 70 andrà ritornerà verso il brinzio mentre la 90 scende ancora verso la valcuvia per affrontare il secondo anello della competizione dove inizierà la salita forse forse la più dura vuoi per i chilometri siamo siamo ormai al sessantesimo chilometro e da casano valcuvia devono affrontare sei chilometri di salita con un dislivello di 800 metri attraverso appunto il tracciato delle trince della linea cadorna quindi una salita che i primi la affronteranno in 50 minuti per raggiungere appunto san martino dal san martino c'è ancora un tratto in salita di con 150 metri di slivello che ci porta al monte colonna che ti affronteranno una discesa tecnica una prima parte tecnica poi una seconda parte su asfalto che li porterà nel bellissimo centro storico di san michele san michele ancora una discesa su single track verso il sant'antonio e poi da sant'antonio si affronta una salita non impegnativa come dislivello di fatto ci sono 450 metri di slivello 500 quasi ma risulta comunque una salita lenta una salita lenta anche per ormai per per la distanza raggiunta fino a quel punto degli atleti e per un tratto di tre chilometri in cresta dove la corsa non è molto agevole quindi raggiungeranno il monte nudo il monte nudo di siamo a 1260 metri poi una discesa veloce ma lunga fino a infine a casal zuigno quindi alla base della valcuvia quando saranno a casal zuigno risulterà solo da affrontare l'ultima salita l'ultima salita che sono altri 500 600 metri di dislivello che li riporterà sul massiccio del campo dei fiori sulla parte ovest quindi riporterà al forte di orino rimane da fare solo l'ultimi gli ultimi sette sette chilometri e mezzo di discesa questa discesa nel 2017 appunto si è giocato poi il campionato italiano vinto da da stefano fantuz su stefano rinaldi di fatto le ultime diciamo le ultime due montagne possono fare la differenza quindi il monte nudo e la salita al forte di orino potrebbero fare la differenza sulla 90 chilometri il tempo massimo di percorrenza è di 24 ore non sono pochi ma non sono per tutti quindi parliamo già di un dislivello impegnativo lungo i 90 chilometri gli atleti troveranno comunque 11 ristori 11 ristori tra ristori solidi e ristori solamente liquidi ben distribuiti quindi un atleta non fa mai più di otto chilometri senza trovare un ristoro questo permette con l'attrezzatura poi e con tutto l'occorrente necessario ed obbligo messo al regolamento permette di comunque di affrontare una 90 chilometri col giusto allenamento una 90 chilometri bene ovviamente per affrontare una